grazie Luca, Sandrone, mi sono divertito molto a vedere la seconda stagione di Cops 2 quindi mi chiedo come è stato ritrovare questa grande famiglia così colorata, così fracassona e se c'è stato più entusiasmo nel ritrovarli oppure anche un pizzico di timore perché poi si arriva da un grande successo personalmente l'entusiasmo nei confronti di questi personaggi è sempre tanto per me molto interessante quando ci sono molti personaggi in scena perché mi interessa molto anche la messa in scena e con tanti personaggi non farla statica però devo dire che grazie all'apporto di Sandrone siamo riusciti a dargli quindi più struttura più azione e quindi in qualche modo credo che sono diventati dei piccoli film e non necessariamente dei film comici ma con un linguaggio abbastanza rigoroso quindi sono molto contento del risultato personalmente per me è stato il primo incontro perché appunto nella prima stagione non c'ero e io avevo una voglia pazzesca di lavorare con loro intanto perché appunto personaggi molto belli e poi molto spazio di crescita di questi personaggi che erano appena stato conosciuti e li avevamo visti all'inizio abbiamo visto le loro caratteristiche principali e finalmente potevamo anche approfondirli fargli fare delle avventure diverse sono talmente forti questi personaggi grazie anche agli attori no, anzi soprattutto forse agli attori più che alla scrittura è il fatto che adesso sono talmente cresciuti che potremmo fare quattro serie diverse secondo me cioè in una, non so, le indagini di Cinardi nell'altra le indagini del SIC con Benny perché è così o con la moglie perché sono veramente cresciuti potrebbero reggere da soli un'intera stagione quindi questo è bello perché in realtà è tanto di quella roba che potresti fare cento film non due c'è il noir da una parte appunto Sandrone ha dato un input decisivo questo aspetto qui ma c'è anche soprattutto la commedia si ride molto è una sorta di farsa però la commedia e il noir sono accumulati dalla fotografia che credo che insomma rompa un pochino poi tutto Luca me la racconti? ma credo che la fotografia di Federico Angelucci sia proprio al servizio di una commedia che non si vuole mostrare come commedia penso che sempre di più bisogna essere rigorosi nel linguaggio oggi nella commedia e bisogna smetterla di pensare che un linguaggio tra virgolette basso come può essere quello comico abbia necessità di un linguaggio visivo semplice anzi proprio perché basso va reso credibile e quindi bisogna entrare nel genere ed essere molto più complessi questa è la dannazione dare credibilità personalmente penso che bisogna farlo sempre di più con una complessità di mezzi o quantomeno con una complessità tecnica che è quello che mi sta interessando sempre di più nel mio modo di girare piuttosto che con delle soluzioni narrative soltanto devo dire proprio di rigore io penso a un grande classico come Frankenstein Junior in cui hai esattamente la storia di Frankenstein che fa ridere però però c'è il mostro ci sono tutti i passaggi c'è addirittura il bianco e nero la musica questa è l'idea che tu possa fare che tu possa mettere in commedia qualsiasi cosa mantenendo però il rigore di quello che c'è sotto cioè se fai un horror è un horror se è un giallo è un giallo e quindi mantieni tutte le caratteristiche che il giallo deve avere ed è una soluzione più complessa come giustamente diceva Luca rispetto a quella che è quella abituale nelle nostre fiction in cui c'è la leggerezza magari qua e là e in più ci sono i siparietti io odio i siparietti c'è l'idea di fare una roba seria con il siparietto comico così la gente si rilassa no tutto deve essere costruito non sai mai se apri una porta c'è una scena che fa ridere o apri una porta e trovi un cadavere questo è un po' la forza di Cops a mio avviso ultima cosa veloce si ride c'è un'indagine ci sono dei colpi di scena ma soprattutto penso al personaggio di Claudio e al personaggio di Gaia c'è anche una celebrazione dell'amore sotto alla storia di Cops 2 me la confermate questa cosa? sì sono stati bravi loro anche a trovare i sottotesti che normalmente in queste storie d'amore sono sempre abbastanza elementari ma loro sono riusciti anche a trovare un amore generazionale perché Claudio è più grande e Gaia è più giovane noi siamo dei romantici in fondo noi facciamo cose terribili ma siamo delle brave proprio degli innamorati di tutto della vita siamo romantici romantici è la base infatti la paura c'è la Claudio non c'è la Gaia grazie grazie mille grazie mille ciao ciao grazie ancora